ragazzi ciao a tutte facciamo uno svuoto alla spesa molto veloce perché troppo qua arriva Sofia che è uscita con mio marito e quindi devo sbrigarmi sono andata a Lidl dovevo acquistare giusto due cosine invece mi sono ridotta a comprare un bel po' di cose adesso vi faccio vedere cosa ho acquistato allora queste fettine questo petto di tacchino al forno questo qui a fette l'ho acquistato tante altre volte mi è piaciuto tantissimo sono 120 grammi e questo qui è costato 2,49 euro poi ho preso gli champignoni i funghi 1,69 euro sono questi qui 500 grammi poi ho acquistato le carote mi ero ridotta senza carote ragazze quindi li ho prese immediatamente perché ogni volta li dimentico 1,29 euro poi ho acquistato questi dischetti della Sienne ragazze con cui io mi trovo benissimo sono i miei dischetti struccanti preferiti sono praticamente 140 dischetti ci sono anche quelli più grandi ma io preferisco questi perché li utilizzo tantissimo per struccare gli occhi e questi qui sono costati 99 centesimi poi ho preso questo lo so avevo fame e l'ho preso e lo so magari quando ne avrò voglia lo farò e questo qui è costato 1,99 euro poi ho preso delle cotolette di tacchino e pollo 1,95 euro li ho presi altre volte sono davvero molto buoni poi del ciliegino questo qui era a 1,69 euro poi ho acquistato le olive queste qui della Baresa che sono buonissime le acquisto sempre e queste qui sono costate 2,69 euro e poi ragazze passiamo al pezzo forte allora c'erano tantissime cose all'idale tante occasioni e ho visto questo tostapane io non avevo ancora in casa nessun tostapane quindi ne volevo uno l'ho visto all'idale e l'ho preso c'erano di tanti colori rosa, grigio verde acqua turchese insomma tanti colori io l'ho scelto grigio anche perché è abbinato alla mia cucina è della Silvercrest e questo qui è costato 19,99 e quindi appunto l'ho preso adesso lo apro ve lo faccio vedere meglio poi ho acquistato questo questo sette di ciotoline queste qui sono quattro ciotoline della Ernesto e questa qui grande anche di queste c'erano tanti colori turchese grigio davvero tanti colori ma a me è piaciuto il rosa e le ho prese appunto il rosa e questa qui allora l'insalatiera grande è costata 3,99 euro il sette di ciotole rosa 3,99 euro poi ho acquistato questi cazzini qui ragazzi c'erano tantissime cose per bimbi quindi se avete bisogno andate anche perché sono di ottima qualità io li ho provati ho provato alcuni pantaloncini insomma pantaloni e sono davvero ottimi anche dopo tanti lavaggi risultano sempre gli stessi quindi davvero sono di ottima qualità ho preso adesso i cazzini che non ho mai preso quindi vedremo il risultato come risulteranno appunto la qualità come risulterà questi qui sono tre paia di cazzini lupilu ah ho preso anche i pannolini della lupilu io utilizzo quindi dei bridle taglia 4 sono ottimi ragazze quindi questi cazzini qui uno tutto rosa uno a righe bianche e rosa e lo stesso l'altro e queste sono misura 19,22 quindi penso che dovrebbero andare bene e sono in spugna morbida e calda quindi per il periodo comunque autunnale avanzato invernale penso che le dovrebbero andare bene poi ragazze un altro pezzo forte ovvero questa bilancia da cucina che ho visto e me ne sono innamorata l'ho voluta prendere anche questa rosa c'erano anche di questa tanti colori ma io però adesso sono in fissa con l'irrosa sarà perché ho una femminuccia ma ho voluto prendere questa sarà molto carina adesso comunque apro tutto e vi faccio vedere questa bilancia è costata davvero pochissimo ragazze 14,99 nel frattempo comunque io vi saluto vi mando un grande abbraccio un grande bacio ci vediamo presto con un nuovo video ciao 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 ciao